La figura del volontario archeologico è un cittadino molto appassionato di archeologia e affezionato alle proprie radici. Qui a Cerveteri, a partire dai nostri amici del GAR, che sono l'associazione più anziana in ordine di tempo, ci sono altre tre associazioni che lavorano nel territorio. Quindi tutti i cittadini che si rimboccano le maniche e partecipano in modo attivo alla valorizzazione e alla tutela del territorio, dei beni archeologici. In che cosa consiste l'opera del volontariato? Nel caso nostro, noi siamo nati nel 1997, sono 25 anni, quindi puntualmente ogni sabato l'appuntamento è qui nelle aree archeologiche con gli altri soci per lavorare. Lavorare significa ripulire le aree archeologiche. È un'area archeologica che copre complessivamente 500-600 ettari, quindi è una zona difficilissima da gestire. In questo il ruolo del volontariato è molto importante perché riesce a supportare in qualche modo le istituzioni. Quindi ecco, in modo attivo noi partecipiamo, ripuliamo le aree, le valorizziamo e cerchiamo di renderle fruibili al pubblico. Nel senso che facciamo anche delle aperture delle nostre aree archeologiche in collaborazione con le istituzioni, con la soprintendenza, con il comune di Cerveteri e anche con gli sponsor, perché noi dobbiamo ringraziare anche gli sponsor. Quindi noi, in collaborazione con la soprintendenza e con un'archeologa, cerchiamo di ripulire tutto quello che è all'interno degli ambienti sepolcrali e setacciamo accuratamente tutto, tutto quello che viene ritrovato, perché poi, diciamo che è una cosa che fa molto piacere a noi appassionati di archeologia, riusciamo anche a recuperare degli oggetti che a volte sono anche eccezionali e poi riusciamo anche a fare delle mostre con gli oggetti che sono stati recuperati. Quindi diciamo che questo è un altro aspetto che fa molto piacere a noi volontari. In poche parole, ecco, questo è il lavoro dei volontari. Grazie a tutti.